Grazie signor Presidente, io sono un cliente Volkswagen, ho una Maggiolino Turbo Diesel che ho comprato dopo che le norme europee mi hanno costretto a prendere l'Euro 5 perché le altre inquinavano, quindi sono uno di quegli 11 milioni che hanno dei problemi, quindi sono stato truffato, la Volkswagen è la prima, non è l'industria, è la prima industria mondiale dell'auto oggi. Allora io mi chiedo, ma se la signora Merkel, signora Merkel, che comanda il mondo, la signora Merkel, ci deve spiegare un po' come funziona, perché ogni volta che c'è un problema la Merkel si muove, allora domani sarà qua con noi la signora Merkel, ci devi dire che cosa è successo, se sapeva o non sapeva la signora Merkel di quello che capitava con la Volkswagen, lo sapeva o non lo sapeva? Io penso che nella storia d'Europa, quando si parla dell'Europa, ci sono stati un po' di preoccupi Onorevole Buonanno, per favore, penso che la maglietta che sta indossando non sia adatta a questo luogo Deve fare attenzione a quello che fa, la sua maglietta non è consona a questa aula Grazie